Ciao, benvenuto o bentornato nel mio canale. Sono Maddalina e sono qui per parlarti di illustrazione, libri, materiali e motivazione. Oggi in particolare voglio condividere con te le mie impressioni in merito ad un libro davvero molto conosciuto che è Disegnare con la parte destra del cervello di Betty Edwards. Ho acquistato questo libro in formato Kindle, perché ho deciso di lasciare un po' di spazio nella libreria per futuri album e artbooks e quindi acquisterò i prossimi libri in bianco e nero in questo formato compatto. Anche se ne ho sentito parlare davvero molto bene e davvero tanto, ho acquistato questo libro solo di recente e l'ho messo subito in pratica. Infatti voglio farti vedere un po' di insegnamenti ed esercizi che sono davvero molto utili e interessanti a mio avviso. Però prima di cominciare unisciti alla mia community qui su YouTube iscrivendoti al mio canale e seguimi anche su Instagram per vedere la mia arte. Vorrei prima specificare a chi è rivolto questo libro. Questo libro è rivolto a chi non sa disegnare per niente, a chi pensa di non avere talento, a chi dubita delle proprie capacità e più in generale a chi vuole approcciarsi in maniera diversa al disegno. Potrei dire che è rivolto anche alle persone creative che non hanno nulla a che vedere con l'arte e la pittura in particolare, ma che vogliono in qualche modo sbloccare la creatività, perché questi esercizi davvero sono utili per tutti. Che cosa saprai fare alla fine del libro? Alla fine del libro saprai disegnare e prima ancora saprai vedere le cose nel modo in cui le vede l'artista e ti assicuro che questo modo di vedere ti arricchierà la vita, quindi perché non concederti questo beneficio? La chiave per imparare a disegnare la trovi già nel titolo, cioè utilizzare la parte destra del cervello e a questo proposito c'è un intero capitolo dove è ben spiegato il funzionamento del cervello umano e ti assicuro che non è per niente noioso o ridondante, anzi è una spiegazione davvero chiara e anche molto simpatica con tanti esempi, però ti faccio una piccola sintesi perché ci aiuterà poi nel corso del video. Il cervello umano è diviso in due emisferi, emisfero sinistro ed emisfero destro. Quello sinistro è l'emisfero logico, razionale, verbale e l'emisfero predominante tra l'altro, mentre l'emisfero destro è quello intuitivo, attemporale, non verbale, non logico. E poiché disegnare è una funzione quasi esclusivamente dell'emisfero destro, dobbiamo in qualche modo escludere l'emisfero sinistro, ma non sarà facile perché l'emisfero sinistro come abbiamo visto è quello predominante ed è anche più rapido e infatti gli esercizi del libro ti porteranno a fare una serie di operazioni che in qualche modo l'emisfero sinistro si rifiuta di fare o non può fare e io ho trovato tutto questo davvero super interessante e anche molto diverso da quello che ho letto finora. Parliamo un po' degli esercizi proposti, io ne ho fatti alcuni e devo dire che mi sono divertita non solo a vedere i risultati finali ma soprattutto nel notare come mi stavo sentendo mentre li eseguivo e a proposito di esercizi ci sono delle indicazioni molto chiare e molto precise su come farli e ti consiglio di seguire queste indicazioni alla lettera soprattutto se sei principiante nel disegno perché sono davvero importanti per vedere poi l'effetto desiderato diciamo. Per quanto riguarda i materiali ho cercato un po' di arrangiarmi con quello che avevo a casa però comunque mi sono trovata molto a mio agio e ho trovato molto facile fare questi esercizi diciamo molto spontanei e il primo esercizio che ho fatto è stato quello di disegnare un'immagine capovolta. Ecco di fronte a questa operazione l'emisfero sinistro va tipo in confusione perché non riesce a vedere degli oggetti veri e propri però si trova a vedere queste forme che non riesce a decifrare quindi va tipo in confusione e allora è il momento per l'emisfero destro di farsi avanti e di prendere il controllo e infatti prova a disegnare un'immagine capovolta e vedrai che ti trovi in una sorta di trance non ti accorgi nemmeno del tempo che passa e poi ti sembra di fare cose che non riesci a capire neanche tu cosa siano o che cosa ti verrà poi fuori quindi fai tutto in maniera abbastanza inconscia diciamo però in realtà è dovuto al fatto che l'emisfero destro in quel momento sta avendo il controllo e quindi ti trovi in questo stato super creativo e intuitivo è davvero un'esperienza molto particolare che ti consiglio assolutamente di provare. Un altro esercizio che ho trovato interessante è quello della percezione degli spazi negativi cioè gli spazi attorno alla figura in questo caso non ho disegnato la sedia ma ho cercato di disegnare gli spazi attorno ad essa e ho utilizzato la gomma per cancellare la graffite attorno alla sedia. In questa operazione in qualche modo l'emisfero sinistro se ne esce fuori perché non riesce a dare un senso a quegli spazi vuoti e quindi ancora una volta ti troverai in una sorta di trance in questo momento super creativo e intuitivo dell'emisfero destro che ha preso il controllo perché dovrai focalizzarti solo sugli spazi vuoti non sulla figura o sul personaggio principale del disegno. E un altro concetto importante che ti consiglio di approfondire in questo libro è quello di come posizionare gli spazi negativi di un disegno questo aiuta molto a migliorare la composizione del disegno stesso. Vengono poi affrontati altri argomenti come saper misurare a vista, saper misurare i rapporti tra le cose e la prospettiva ma poi c'è un altro argomento molto interessante che è quello dei ritratti infatti saper riconoscere i volti delle persone è una facoltà quasi esclusiva dell'emisfero destro però il problema è che il nostro emisfero sinistro ci fa percepire le cose o comunque le parti del volto in maniera un po' esagerata per esempio quello che ha notato Betty Edwards nei disegni dei suoi studenti è che gli occhi vengono posizionati nella parte alta della fronte cioè troppo in alto rispetto a quello che sarebbe la realtà e questo è dovuto all'emisfero sinistro infatti gli occhi dovrebbero essere posizionati a metà strada tra il mento e la sommità del cranio. Ti verranno così insegnati i vari rapporti tra le parti del viso e quindi come disegnare un volto proporzionato e poi c'è un capitolo dedicato al rapporto tra luce e ombre e uno dedicato al colore. Infine c'è una serie di esercizi ancora e poi altri consigli tra cui uno mi ha colpita in particolare perché lo stavo già mettendo in pratica si tratta dello stratagema di Leonardo cioè Leonardo da Vinci insegnava ai suoi alunni di allenare l'immaginazione cercando di scorgere immagini fantasiose fantastiche nelle macchie sui muri della città e questa è una cosa che faccio spesso anch'io quando ho un po' un blocco di creatività cioè faccio delle macchie di colore sulla carta e poi con la matita vado a individuare delle figure all'interno di queste macchie così quello che mi viene in mente ed è una cosa di cui ho parlato anche su youtube e infatti ti lascio il video qui così magari ti può aiutare sempre per il discorso immaginazione e creatività. Passiamo ora alle mie considerazioni personali su questo libro devo dire che mi ha aiutata molto a capire certe operazioni che di solito faccio mentre disegno cose che faccio magari inconsciamente ma adesso so che c'è un perché e alcuni di questi esercizi sicuramente li rifarò in futuro perché mi hanno aiutata a rilassarmi e a sfuggire a quella parte razionale di me però se devo individuare un aspetto leggermente negativo è che la parte delle luci e delle ombre e la parte del colore sono state trattate in maniera molto approssimativa ma penso perché Betty Edwards comunque ha dedicato un intero volume all'arte del colore e quindi se vuoi approfondire questo argomento dovrai acquistare anche quel volume e al di là di questo sono davvero molto contenta e lo consiglio vivamente perché fa quello che dice cioè un libro che insegna a disegnare e insegna a vedere le cose in modo meno razionale ma in modo più profondo e più sentito inoltre ci sono una serie di consigli dedicati ai genitori su come crescere i figli su come aiutarli a sviluppare la parte destra del cervello perché molto spesso a scuola si dà più spazio alla razionalità la logica quindi all'emisfero sinistro e penso che appunto sia comunque importante nell'educazione dei figli e lo consiglio anche ai genitori appunto quindi se hai già letto questo libro e se vuoi esprimere la tua opinione merito ti aspetto nei commenti ma se non l'hai letto spero che mi darei un'opinione sulla mia di recensione intanto ti auguro una buona settimana e ci vediamo nel prossimo video ciao